Sì, grazie Presidente. Naturalmente è stato detto praticamente tutto e non posso che condividere praticamente tutto quello che è stato detto dal collega Sarti, dal collega Donzelli, dal collega Mugnai. Anticipo subito che voteremo a favore della risoluzione presentata dal PD e con l'emendamento di Giovanni Donzelli. Annuncio anche che sinceramente è molto deludente dal nostro punto di vista questa comunicazione della Saccaglia. È deludente per molti aspetti. Il primo è perché dare di superficiali e pregiudiziali al Consiglio, dire che il Consiglio ha agito in modo superficiale e pregiudiziale, io credo sia un'offesa al Consiglio stesso. Io chiedo al Presidente formalmente di censurare il comportamento dell'assessore, che prima di essere assessore è stato eletto in Consiglio regionale. E non credo sia corretto da un punto di vista, come dire, anche di etichetta, essere così arroganti e aggressivi nei confronti del Consiglio. Perché non si tratta solo di questo, ha detto anche sulla stampa che non si fa dettare l'agenda e neanche i contenuti dal Consiglio regionale, che fino a prova contraria è sovrano. Passi che l'abbia detto nei confronti del Donzelli. Ma quello è un fatto quasi, come dire... No, scusate, ma... Per cui io chiedo formalmente che il Presidente si faccia carico di una censura nei confronti della Stefania Saccardi rispetto a questo atteggiamento. Devo dire che l'altra volta una delle cose più significative, secondo me, che era avvenuta era stata la capacità, secondo me, molto pregevole del partito di maggioranza di uscire da una sensazione come dire, di orco, come Marras ha definito qualche volta. E quindi era una cosa buona che noi si fosse arrivati all'unanimità ad approvare quella mozione. Io penso fosse una cosa davvero interessante. Quello che mi preoccupa di più, al di là delle note di colore e anche della necessità della censura nei confronti della Saccardi, tuttavia è che afferma che comunque il riferimento... Leggo testualmente... Il riferimento sociologico alla famiglia funzionale non costituiva peraltro avallo di un modello, ma presa d'atto della presenza di un'esperienza peraltro non esclusiva del partito. Non è vero. Solo al partito c'era in tutta la letteratura mondiale quel tipo di modello. Era antiscientifico quel modello. La famiglia funzionale, i chiarimenti serali, i riferimenti continui alla sessualità, all'omosessualità e la separazione tra maschi e femmine. Allora, affermare questo oggi vuol dire ancora una volta essere ambigui nella definizione di quel lager, di quella setta che si era costituita al fortito. Io credo si debba uscire da questo meccanismo tutte le volte di dover in qualche modo giustificare un operato di cui, lo dissi l'altra volta e lo ribadisco oggi, questo consiglio tutti insieme non hanno responsabilità. La responsabilità è di altri, è venuta l'ora di affermarla questa cosa e di non avere paura a uscire da questa sensazione che si è sul banco degli imputati. Il Vinicio Biagi ha sbagliato nella migliore delle ipotesi, forse per negligenza, per imperizia e per imprudenza. Abbiamo qualche dubbio anche sul dolo tuttavia, perché affermare quello che ha affermato su richiesta del Ministero degli Esteri, giustificando il fortito e addirittura arrivando ad affermare che l'armonia del fortito era stata lesa da una sentenza dell'Alta Corte di Strasburgo, credo fosse una cosa gravissima. Quindi in questo senso io rientro nel contesto del contenuto della Saccardi. Per questo chiedo davvero che la Presidenza, l'Ufficio di Presidenza, censuri questo tipo di comportamento. Arrogante, esautorante e squalificante l'intero Consiglio regionale che è sovrano.